Buongiorno a tutti, io sono Lorenzo Seneci, sono responsabile per la divisione audio professionale di Adeo Group e sono quindi responsabile per l'Italia per il marchio Rencus Science. Quella con Rencus per quello che riguarda Adeo diciamo che è una collaborazione che ormai è quasi decennale. Abbiamo cominciato a lavorare dopo il primo passaggio di distribuzione in Italia ed è uno dei marchi che spingiamo diciamo con più affetto visto che comunque si tratta di una relazione a lungo termine come piace appunto alle case madri americane. È un marchio che ha avuto chiaramente alti e bassi per quello che è stato il mercato italiano ma è un marchio ad alta tecnologia, è un marchio top con il quale lavoriamo volentieri. Per quello che riguarda diciamo Iconics in particolare Adeo Group spinge molto sulla selezione degli installatori. Chiaramente è un prodotto con tutta una tecnologia che lo rende molto particolare, è un prodotto risolutore in determinati contesti ma non è chiaramente un prodotto per tutti. Quello che noi offriamo come Adeo Group a chi vuole approcciare Iconics è una fase di supporto chiaramente in fase di progetto. Facciamo poi anche degli studi acustici ed eventualmente anche demo presso quello che è il cliente per convincere poi prima dell'acquisto della bontà del prodotto. Quello che diciamo è un po' causa di affetto nei confronti del marchio è che comunque ci permette di vincere delle sfide. Diciamo che la crisi ci ha abbruttito un pochino tutti come installatori e purtroppo la ricerca ormai per quello che è la soluzione è la ricerca della non soluzione ma di quello che può essere il compromesso commerciale che permette di chiudere il lavoro. Noi andiamo avanti con testataggine appunto 13 anni a proporre un prodotto che chiaramente non è buon mercato ma che il più delle volte è la soluzione. Per settembre presenteremo delle novità per quello che riguarda Iconics. Dobbiamo ancora decidere quella che sarà la location, dobbiamo decidere se presentare il prodotto a Roma, a Milano oppure a Trento, però chi lavora con noi con Iconics deve aspettare un grande passo per quello che è a settembre. Invitiamo tutti coloro che sono interessati a contattarci chiaramente per parlare del prodotto e per vedere quali sono le potenzialità del prodotto. È un prodotto che appunto portiamo nel cuore e con il quale speriamo di crescere nonostante questo periodo difficile.